Donne di tutto il mondo! Donne! Avete il marito che è bravo a fare i lavoretti? Mettetelo in affitto! E vela! E vela! A fare i lavoretti! A fare i lavoretti! Dunque, una donna inglese, ma quanto sono intelligenti questi inglesi? In inglese sono un pozzo dei scienziati! Ma incredibile! Una donna di 41 anni ha implementato... Cosa è la mia età? Esatto, ha fatto un servizio dal nome Rent My Handy Husband, ossia assumi il mio abito. Perché questo? James, il nome di questo tutto affare, dopo aver smesso di lavorare per rimanere accanto alla moglie e aiutarla a crescere i figli, uno dei quali purtroppo è autistico, e si è dimostrato... Ciao Ciro! È tornato il Ciro! Si è dimostrato... Ciao Ciro! Ciao Ciro, amore! Si è dimostrato... Scusatemi, eh, se riesco a prenderlo... Vieni qua il Ciro! Vieni qua il Ciro! Scusatemi, eh, io... Ciao amore! Faccio impennare gli ascolti... Ciao il Ciro! Ma che bello! Ciao amore! Ciro, dotare che c'ha la faccia a forma di cuore. Fatti vedere, fatti vedere... Sì, sì, ma... Ma ciao amore, ciao amore, vai! Ok, quindi stiamo parlando di quest'uomo, dunque quest'uomo è bravissimo a fare i lavori, quindi cosa è successo? Che la moglie ha detto, visto che mio marito è bravissimo a fare un sacco di lavori, giardinaggio, tinteggiatura, falegnameria, tutto idraulico, tutto quanto, cucina, tutto tutto quanto, c'è perché non metterlo in affitto? E aiutare magari altre donne o altri uomini, perché no? Perché non è detto che siano soltanto gli uomini a saper fare le cose, perché non aiutarli? E noi nel contempo riusciamo anche a guadagnare ed ecco che è nato questo servizio, Rent by Andy Asband, ossia assumi il mio abile marito. E dopo aver creato il sito, manca a dirlo, l'annuncio è stato rilanciato sui social e il successo è stato immediato. Boom! Boom! Quasi qua, si mette in affitto anche Luca. Se soffrite di depression voi invitate il Luca e lui vi racconterà che sono le barzellette. Possiamo, ma che sto combino? Non si può dire! Possiamo affittare, non lo so, vedo la Masucci che sta facendo le reazioni tipo pop corn. Possiamo affittarlo quanto, Masucci? 5 euro un quarto d'ora? E' un po' poco. E vabbè, però per iniziare poi eventualmente sono ovviamente soddisfatti o rimborsati. Iniziare.